L'associazione Angela Serra Sezione Locvide nasce nell'aprile 2018 come appendice della più nota associazione per la ricerca sul cancro con sede operativa presso il centro oncologico di Modena. La nostra sezione ha come sede i locali messi a disposizione dall'ASF di Reggio Calabria presso il polo territoriale sanitario di Siderno e si offre come obiettivo primario quello di offrire un supporto al paziente oncologico attraverso l'erogazione di una serie di servizi gratuiti. Attraverso il nostro sportello informativo forniamo indicazioni sui diritti del paziente oncologico e garantiamo un collegamento diretto e integrato con medici specialisti e strutture diagnostiche presenti in Calabria. Presso la nostra sede è stato ideato lo sportello Agenzia interno viaggi che attraverso il progetto Migrazione Zero intende limitare i cosiddetti viaggi della speranza e offrire al paziente e ai familiari un percorso fruibile minimizzando i tempi di attesa di visite ed esame. Lo psicologo accoglie ed è a fianco della sofferenza psicologica del paziente oncologico. Qualunque sia la diagnosi essa rappresenta sempre un'importante sfida di adattamento psicologico e il paziente può essere aiutato a trovare il proprio modo di adattarsi alla sofferenza. La comunicazione di una malattia tumorale determina inevitabilmente un momento di grave crisi emozionale che spesso si manifesta con incertezza, ansia, paura e angoscia. L'intervento psicologico è dunque necessario per garantire ai pazienti e ai suoi familiari la possibilità di condividere e di rielaborare sentimenti ed emozioni per dar voce ai vissuti emotivi più intensi e ridefinire il senso dell'esperienza di malattia. L'attuizione svolge un ruolo chiave nella prevenzione della patologia oncologica. Diventa un attivante della cura farmacologica, previene l'insorgere della patologia e riesce a ritrovare il benessere con se stessi e con il proprio corpo. Per questo motivo tutti i pazienti oncologici devono essere informati, devono avere il diritto di essere consapevoli di quanto insidioso possa essere l'accumulo di grasso corporeo per la patologia stessa, che diventa a sua volta un deterrente per l'aumento della massa cellulare tumorale e di conseguenza un aumento del rischio di ricidiva. Per questo motivo l'Angela Serra offre un servizio di nutrizione affinché tutti i malattie oncologici abbiano il diritto di curarsi e di farlo anche attraverso una corretta alimentazione. Cure Me Beautiful è il servizio di esteri oncologica e consulente d'immagine, nato col proposto di migliorare la qualità della vita e il benessere dei pazienti durante la terapia. L'ambulatorio è un progetto Skin Care For Me, rivolto a pazienti donne e uomini, che nasce dalla condizione che avere cura di se stessi in un periodo della propria vita possa essere di grande aiuto per affrontare al meglio la propria malattia e portare attenzione al proprio corpo e al proprio sanitario. La nostra sezione inoltre si impegna a promuovere sul territorio una campagna di sensibilizzazione e prevenzione delle patologie tumorali e attraverso incontri e seminari mira a diffondere una cultura salutistica attenta agli stili di vita alla prevenzione e rimedio. Quello che sembrava un sogno è diventato realtà. La nostra agenzia lavora già da un anno per consentire ai pazienti oncologici di poter fruire di questi servizi nella coppia porta. Tutto questo è possibile grazie anche al vostro sostegno. Se si sogna da soli, resta un sogno. Se si sogna insieme, il sogno diventa realtà.